Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ma porco diavolo! Filatina il culo a un braccio figlio di troia! Invasato del cazzo che fai schifo Fortnite tanto! E' inutile che perdi il tuo tempo! Stai morendo e non lo sai! Un saluto a TikTok, ciao TikTok! Tine, Mirko Lotti, buongiorno! Ciao Mirko, buongiorno! Porco diavolo! Cristo Dio! Cristo Dio! Ma ti pare! Ma ti pare! Ma ti pare! Ehi! La musica è bella pulita! Di all'altro dicione che è in patina con te che mi pompo! Ehi! Ehi! Stai attento zio che mi inculo tua madre! Dio caro gli faccio uscire la sborra dall'ano da quanto cazzo glielo infilo in gola! Figlio di puttana! Il problema è che anche quel cornuto di merda di tuo padre si è preso il mio cazzo nel culo ieri sera! E sai come cazzo ragliava quell'asino di merda? Dio caro ragliava che hanno dovuto chiamare pure la polizia e quei cazzo di V-Bucks che ti prendi per comprarti le quattro skin di merda! Datteli da tua sorella mentre me la scopo dal culo! Ok Fede! Mi spiace finchè insulti mi va bene ma non ci insultano altre persone giure! La trovi di tua madre la prendo per i capelli gli sbatto la faccia contro la finestra e me la scopo intanto! Ricordatelo coglione mentre tu ti compri le skin! Ma no no non la tocco perché la rispezzo ogni leggera! Guarda quella merda che mi sta aspettando! Ma porca di a**o! Ma sei fuori di testa! Succa! 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 Intanto buongiorno a tutti ragazzoni! Andiamo! Sono passate 25 season! Xudera è ancora qui con Fortnite che come sempre fa più cagare del primo giorno quando ha iniziato a giocare! Non sappiamo le motivazioni ma è così! Andiamo! E' che ho appena aperto il drop! Oh cazzo culo banana! L'aiuto? No no! Cil 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 cil! La sta bussando? Oh porco il cazzo! Andiamo a bussando che sta! Due! Ok! Leluia! Parco diiiia! Parco diiii! Parco diii! Parco diii! Parco diii! Parco diii! Ma che cazzo vuoi invasato? Cioè guardate questo come... bravo no io non posso giocare le rene non sono capace non sono capace ragazzi non riesco a gestirle io queste cose ma io non sono capace raga non è inutile che ci sta e ci serve anche un protagonista maschile ragazzi merda merda dio se faccio 7 kg in 2 no build 500 più 100 di baluts se la vincete che cazzo dice merda dio mi scusi ripeto la bet di pc con la differenza che per me valgono tutte le kill a prescindere da chi le fa e sono 30 patatine per ogni kill chiaramente win compresa allora laura se tu ci sei ancora finiamo questa partita normale e poi la ricominciamo va bene non c'è problema ci sta infila la spalla nel culo si li vedo 27 doppio 25 doppio triplo 26 craccato quello là in fondo che è in open annaggia il cristoforo colombo puoi andare c'è uno qua a destra si lo vedo 26 triplo sono due credo 79 gli sto sventrando il furgone ma porco il cazzo porco il cazzo 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 ma già mi cazzo fa fatto il pazzo già mi cazzo fa porco il cazzo sulla pagina instagram ve la faccio vedere completa silvio mi conoscenta di dirle che sono molto felice di rivederla per questo undicesimo grande silvio grazie mille silvio pazzo criminalo andiamo piano xuder non devi urlare xuder no non devi urlare xuder stai tranquillo stai calmo puttana mi serve egg mi serve egg e non chi l'ha mi ha incolato il cinghiale se porco dio dai vedi per fare ste puttanate di sfide per fare ste puttanate ma dai va a pesarmi non mi sono ancora pesato io sarei molto curioso non voglio usare no no sion non esce ancora perché io non ho il non ho nessuno che mi stia mettendo il i ringraziamenti finali quindi mi sono rotti i coglioni oggi è finita la live li metto io faccio uscire il video mi sono rotto il cazzo di aspettare che ringraziamenti che esce c'è il videoclip di warpix e a me adesso guarda ripeto oggi finiscono a meno che saio tu non hai voglia di chiudermelo e di mettere i ringraziamenti io mi sono stufato lo faccio uscire è solamente da metterla tu ce l'hai il videoclip sion o non ce l'hai mi sa che non ce l'hai ah una certa le dico sta cosa mi dica e che cazzo devo fare io ma si chiama Pasquale mamma del mano questo Pasquale tua madre succhia i cazzi e porco tuo padre in culo se lo deve prendere da me bo stardo di merda me lo in culo quel cornuto così per la testa lo prendo ma che cazzo vuole what what yo 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 oh fede gran pazzo oh yo 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 fede grande pazzo what 500 patetine ho messo a trovare a fare un livello in 52 secondi città dio porco oh scusa un secondo fermati perché questa puttanata la devo bannare andiamo ok andiamo oddio ho letto pure io questa questa veramente mi fa venire la cagarella la diarrea a spruzzo che porco diaz ha prenduto e ha spatto in faccia dio caro questa non la dovevo leggere questo è troppo eh questo è troppo porco diaz è come osannare la merda dio caro dio caro sei veramente conciato come la merda zio no eh ah queste come si fa mi sembra che sia lei traggio non buono qui eh rondo sottolineature sosa quattro mesi saltute il mio amico pepo ti prego buongiorno rondo sosa saluto il tuo amico pepo e intanto si è fottuta la webcam ahhh